Presidio sulle note reinterpretate di Selito Lindo, in serata davanti alla sede Rai di Milano, a protestare i sostenitori della lista L'altra Europa con Tsipras, che citano i dati dell'osservatorio di Pavia sulla presenza dei loro candidati nei telegiornali nazionali. 48 secondi dal 18 marzo al 21 aprile, pari allo 0,07% contro oltre il 50% garantito al governo Renzi e alla maggioranza, sostengono. La protesta per chiedere un'applicazione più rigorosa della Parcondicio e per ribadire le posizioni della lista L'altra Europa con Tsipras, che vuole cambiare l'Europa all'insegna dei diritti, dei beni comuni e del lavoro non solo precario. Una storica palazzina degli anni 20, un tempo autorimessa tramviaria, ora sede del Museo del Fumetto di Milano, la facciata è deturpata dai vandali, l'idea dei responsabili che lanciano una sottoscrizione via internet, realizzare un grande murale.